Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, sono di Affaltanello, siamo tornati in un video che ho fatto molto tempo fa, non mi ricordo se l'ho fatto singolarmente questo minigioco oppure lo feci insieme ad altri giochi, non mi ricordo, però ho fatto già un altro video di Dreams, che non so se è uscito prima di questo, probabilmente è uscito prima di questo, in cui vi avevo detto che facevo un altro episodio, un altro video su questo minigioco, in poche parole se non avete visto l'altro video, questo minigioco tu sei un ladro e devi rompere tutto, punto. Questo è quello che devi fare, ed è pure molto bello come gioco, perché proprio ti rilassa, che si spacchi tutto quanto, qua questo è un museo, vi faccio vedere la roba che ci sta, ci sta la... Questa è la finestra macchina qui, cosa facciano da? Scemo di me, va beh, questo, va beh, questo si chiama... Sì, stai ziet, questa qua si chiama la sfinge, poi ci sta le cose, poi ci sta Mastro Lindo Donuts, poi c'è questo, non so cosa sono questi, così, e poi... e niente, poi ci sono i quadri, ci sono i quadri bellissimi, che non ho... Ok, va bene, poi stanno queste cose, c'è la ratatouille... Spacco tutto, mi hanno visto ormai... Questo non c'era prima, avranno fatto dei aggiornamenti, vabbè, comunque, spacco tutto quanto, spacco tutto, pure la porta spacco, guarda... Oh, si apre! Perché qua di... ah, qua ti puoi nascondere, eh? È un passaggio segreto Non lo so Io comunque non mi ricordo tutta questa roba, eh Cioè, questo sicuramente è stato aggiunto da ultimamente, io non mi ricordo questo Vabbè, comunque, eh, 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 questi poliziotti in nega servono... Beh, beh, questi poliziotti non servono a niente Io sto spaccando qualsiasi cosa possibile, immaginabile, ancora devono venire Apri! Apri! Non ho fatto niente io, eh Non ho fatto niente io, io ho fatto niente, eh Non ho fatto niente, io sto qua, sto guardando le cose, le sculture Non è che sto facendo... Non è che sto facendo io tutta questa roba Eh, poliziotti non sono io Cioè, guarda, questo chi è? Oh, 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 oh Homer Simpson, che vuoi? Va, che chiede, va Chi è, guarda, va Eh, 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 eh Eh, 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 eh Quanti danni ho fatto? Non so quanti danni ho fatto, però credo tantissimi 23 oggetti distrutti Sotto ci stanno anche i soldi che... Ho rotto No, ma ho preso 50 milioni Ho preso 50, facciamolo di nuovo Superiamo il nostro record Mi ricordo che il mio record in tutto era stato tipo 70-80 milioni Adesso... Fermi, no, fermo, fermo, fermo Dobbiamo fare una strategia Dobbiamo scappare da questi qua che non ci dobbiamo fare vedere Sto facendo distrutto tutto Idioti Idioti Ma poi questi qua Parlano tipo Spacca Io sto rompendo tutto Ma fate il vostro lavoro, poliziotti Cioè cosa vi dice voi il capo Il vostro capo Che viene a sapere che ho spaccato tutto quanto E voi non facete niente Tutti idioti qua, tutti idioti Incompetenti Chi è questo? Non so cos'è questo Non voglio saperlo Credo di essere un attimo in difficoltà Perché credo di aver ucciso un demone dell'inferno Però va bene Vedi, 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 vedi Mi ha matato un suo demone Mi ha matato contro Vedi questo è un demone per esempio Eccolo qua Vedi com'è brutto Un po' bruttissimo Questi qua si rompono Fanno un bordello Però si rompono 36 oggetti Ah ma mi sa che ho superato pure il record comunque Oh, è solo If you don't surrender And come with me Dai che spacco tutto Questi qua mi sa che costano di più Sono quelli che costano di più Spacco tutto Spacco Le palle di bronzo Il coso della regina Elisabetta terza Spacco tutto C'è nessuno? Questo qua devo rompere No, fai, fai Zit, zit Zit, schimbo, schimbo Tanto non puoi prendermi Sì Tutto, tutto No Vedi, ho superato il mio record 72 milioni Però non ho rotto nessun fossile E nessun painting Ricominciamo Vediamo se riusciamo a far di meglio Quello che voglio fare adesso È arrivare a 100 milioni 100 milioni Sì, 100 milioni Sono arrivato a 70 mila 100 milioni ce la faccio Il David Il David per esempio Costa un bot Il David Perché il David di Michelangelo costa un bot Poi sta la Madonna Che fai? La Madonna non costa tanto È sì, è sì Poi sta questo Che spacchi tutto Che non costano tantissimo Però comunque le rompi Perché ci sta Poi c'è questo Che cosa fai? Non lo rompi? Non è che costa tantissimo Però No, no, no Via, via, via Il Sir Doffi un Surrender Qua mi rompe le scatole Vabbè Il tempo comunque sta per scadere C'ho due minuti Non mi rompete le scatole Per favore C'ho già poco tempo Io Non mi hai preso Scemo di merdo Tiene 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 Ai dai Oh, oh E niente Sono stato ammazzato Dai, non sono più ammazzato Sono fortissimo Fermo Non ho fatto niente Io sto tranquillo Non c'ho più la mazza Ma non ho fatto più niente Non posso più La mazza non ce l'ho più Non posso distruggere niente più Quindi Tranquillo Guardi Non ho fatto niente Tranquillo Ciao Ciao No, io ho fatto niente Infine Mo' ho fatto niente Coglione di merda Coglione 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 E' caduto quello E' caduto Maronna Elisabetta Ciao Elisabetta Spacco tutto Spacco tutto Spacco tutto I soldi che se ne vanno Mamma mia Questo piange No, io ho fatto niente No, c'è pure Mastro Lindor La, manna No, no 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 Non mi ha preso No, guarda 64 milioni Devo andare sulle cose Che costano di più Devo andare No, no Ho sbagliato Ah vabbè Sono un cretino Sono un cretino Ho sbagliato Devo andare sulle cose Che costano di più Per esempio I fossili Devo andare sui fossili E poi magari su Cosa va Il Davide di Michelangelo Costa tanto Secondo me quella Quella scultura Costa parecchio Devo provare Non lo so Non lo so Vediamo Il Davide lo rompiamo E il Davide Ci ha dato 3.000 Questo qua lo rompiamo Preways Preways 8.000 Questo lo rompiamo Questo Questo lo rompiamo Questo lo rompiamo 11.000 Rompi Rompi 12 Questi qua non costano niente Per esempio Voi Vabbè Non costano proprio niente Non stanno salendo le cose 13.000 13.000 Questo è rotto Quattro Porca Mia Fatca Garados 16.000 La madonna 20.000 20.000 Questo qui 47.000 Ok Siamo messi a buon punto Basato Guardiamo 50.000 50.000 Rompi questo 60.000 Ok Aia Bordello Non so Quanto abbia fatto 61.000 I quadri Forse costano tanto Forse costano poco Non lo so Io li rompo 65.000 Dai che a 100 Ci arriviamo Dai vai Che a 100 Ci arriviamo Vai Vai 82.000 Via Vattene via Ci rompono le scatole C'è pure la ciambella La Ma Sattelz Am Havos Quando rompo Vabbè Questo è inutile Che rompo questi qua Che non mi danno niente Devo andare Rompi qua Rom No Già l'ho rotto Questo Ma che fai Il nascoltino Fai Idiota Idiota di cacca Ah Buono Quello è buono Mi sono dimenticato Che sta quello Questo si rompe Se si rompe Questo è buono Questo è molto buono Se si rompe Non lo so Quanto ho fatto Guardala Quanto c'è Ma No Guardala 5.000 dollari Dovevo rompere Solo un'altra cosa Per arrivare A 10.000 A 10.000 A 100.000 Scusa E vabbè Vabbè E facciamo cosa Finiamo qua l'episodio Forse ne farò un altro Forse no Sono arrivato così tanto Dai 100.000 No Non ci sono arrivato Vabbè No friends Spero che il video Vi sia piaciuto Se così fosse C'è il canale Sto iscrivendo Tutto quanto Farò altri video Di dreams Che comunque dreams Ce l'avevo là E' un bel gioco E ce l'avevo lì C'ho fatto 6-7 video In generale C'ho speso Di solo Facciamolo E' molto bello Come gioco Facciamolo Comunque ci vediamo Il prossimo video E' nulla Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Liu